Immaginare il futuro è il motore dell'esistenza e l'innovazione è la scintilla vitale di ogni cambiamento. Ma che cos'è l'innovazione? Che cos'è la genialità se non prendere tutto ciò che la nostra ambizione e conoscenza hanno prodotto fin qui e con un pensiero coraggioso compiere un altro balzo in avanti, verso qualcosa che prima non c'era, verso nuove intuizioni, nuovi possibili scenari. Gli ideali, la cultura, l'arte sono il primo motore che ci spinge ad andare sempre più veloci. In quell'Italia che sta cambiando e che vuole diventare ogni giorno più grande, ha inizio la ricerca di nuovi modi per inventare, creare, costruire barche così perfette da sembrare immutabili. Non sono solo i valori, i successi, i primati raggiunti, è soprattutto quella capacità di immaginare il futuro prima degli altri. Baglietto è la capacità di guardare oltre, di immaginare nuove soluzioni, di sperimentare, di osare ciò che gli altri non fanno, con il coraggio di esplorare orizzonti sempre nuovi, con lo sguardo curioso di chi vuole trasformare i propri sogni in realtà. Mentre il paese è in grande fermento industriale e culturale, che lo fa diventare innovatore nel design, nello stile, nell'eleganza e che comincia a essere protagonista anche nel mondo della nautica, Baglietto anticipando i tempi e ripensa in modo radicale il proprio modo di costruire e lancia nuove seducenti innovazioni, non scordando mai la passione innata per un'eleganza discreta in grado di sedurre e affascinare. E mentre l'uomo si spinge alla scoperta di frontiere inesplorate, sbarcando in nuovi mondi, Baglietto cambia ancora paradigma, pensando a nuovi materiali, raggiungendo nuovi traguardi, senza mai dimenticare l'amore per la velocità, quella tensione vitale sempre presente che è parte del suo DNA, che lo spinge a cercare nuovi limiti e a superarli, a fissare nuovi record da infrangere. È grazie al design più sofisticato, all'innovazione in grado di stupire, alle tante miglia navigate, che Baglietto diventa custode della tradizione ed esploratore di nuovi orizzonti possibili, in grado di rivoluzionare il pensiero, di evolvere verso traguardi prima impensabili, nella scia di una storia che ha sempre guardato avanti, sempre tesa a superare se stessa, guardando in anticipo a un futuro immaginabile. Creare ogni volta qualcosa di speciale, di unico, brillante, come lo scintillio negli occhi di chi Baglietto lo vive. È così che stiamo immaginando il nostro futuro. Baglietto. Una storia italiana.